cosa 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 non è tanto hai ricevuto un dono bellissimo ma grazie grazie ma non dovevi fra ci metti i bubbi cos'è se ne ammazzo un'altra bravura che cazzo fai vai vi faccio ammazzare io adesso non hai bravura è tutto culo strange va vai carcario vai vai c'è una strada di strage mi hai fatto fallo mi hai fatto fallo che battuta guarda questo me ne spalla strange oidocro qua non mi ha fatto brillare solo perché ha lanciato il mouse fuori dalla finestra ma ha fatto 170 guarda il mouse fuori dalla finestra e prende tutti gli scarpe da oma che mi lascia ok io lo sapevo che non dovevo finire dopo in seri tornato si fatemi ma mi facciano il cazzo sto messin' di me senza capi più 50 di città oh mio dio non ci credo vai quando faccio oh mio dio che culo oh ma sono lì tu guardalo aia aia aiutatemi no no gli dai a chile a me gli fai farei 9 punti bis? uub uuub ah uuub Uub ma 漁 6 ma uub uub ma uub uub a uub 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 uuh c'è un hacker io anche ho grazie all'escrizione oh cazzo ho fatto la descrizione da tanta chi da un altro che le metti a farlo le primi? ai mario c dimmi così ti dà più punti no zi perchè ma adesso me lo spieghi ancora l'ha colpito il piede l'ha colpito il piede no dai sei scarso muoviti guardi dai guardi guardi dai raga io stacco c'è di andoni ciao 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 come cosa buona puoi schizzare l'acqua dal mezzo ai denti nuovo bello che ne apporni che ma cosa hai fatto string ma solo 1v1 faccia a faccia no deve essere anche muori muori per rupe palle ciao 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 ciao